Una donna corriere incensurata nascondeva 580 grammi di cocaina arrestata una 26enne. Nasconde la droga dentro la sua auto ma i carabinieri la trovano. Pensava di sfuggire ai controlli una giovane donna di 26 anni incensurata che fermata durante un controllo alla circolazione statale dai militari nella zona nord sono subito insospettiti per il forte stato di agitazione palesato. Una gazzella dei carabinieri della sessione radiomobile della compagnia di Siracusa ha fermato l'automobile per un controllo di routine. La 26enne era in compagnia con un'altra donna la quale era ignara dei fatti ma i militari si sono subito insospettiti per il forte stato di agitazione palesato dalla donna alla guida del mezzo. La donna sembrava nervosa, aveva fretta di ripartire ma i militari non si sono limitati a controllare i documenti. I ministri insospettiti del loro modo di fare hanno preceduto ad una sommaria perquisizione della vettura. L'accettamento è proseguito in caserma al comando provinciale. È stata fatta una perquisizione accurata anche addosso a tutte e due. Sono stati rinvenuti 330 grammi di cocaina all'interno della borsa della 26enne. Ulteriori 250 grammi della stessa sostanza sono stati invece rinvenuti presso la sua abitazione. Custoditi all'interno di una cassaforte per un totale complessivo di 580 grammi suddivisi in otto confezioni. Suddivisi in dosi, tagliate e spacciate, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato la somma di circa 60.000 euro. L'arrestata è stata associata alla casa circondanaria Piazza Lanza di Catania come disposto dalla autorità giudiziaria Aretosea.